Hanno colpito tre ragazzini delle medie e un'intera classe delle elementari le prime sanzioni antibulli ad Arzignano. Ad un mese circa dall'entrata in vigore della particolare ordinanza, che in caso di episodi di vandalismo o disturbo sorda ad ogni altro richiamo permetta alla polizia locale di entrare nelle scuole, sono già tre i casi in cui gli agenti sono stati chiamati ad intervenire. Dapprima un ragazzino indiano che in sudiciava le panchine fuori dalla biblioteca ha punito con 50 euro di multa. Se la sono cavata invece con un'ammunizione verbale, una mattinata intera di lezione sulla corretta educazione, alcuni giovanissimi bulletti dell'elementare di San Zeno con la fastidiosa abitudine di tirare sassi contro i vetri delle abitazioni. Infine il fatto più grave, una coppia di studenti delle medie giuriolo che hanno svuotato un intero estintore nel corridoio della scuola, causando la sospensione delle lezioni e l'evacuazione di un intero piano dello stabile. Per loro 100 euro di multa a testa convertita subito su richiesta dei genitori in lavori socialmente utili, come vuole la filosofia dell'ordinanza. I ragazzini coinvolti, oltretutto di origine straniera, probabilmente non conoscevano l'ordinanza e sono caduti un po' come dire dal pero, cioè si sono accorti nei giorni successivi della gravità dell'azione fatta. I genitori di ragazzi invece hanno capito subito la problematica e la gravità e sono stati i primi a chiedere al sindaco di essere aiutati nella gestione di questi ragazzi che evidentemente hanno qualche problematica da risolvere. Ho parlato con il Presidente e il Direttore della locale Casa di Riposo IPAB. Commisureremo l'entità dell'importo pecuniario sanzionatorio alle ore da prestare. Ovviamente anche a scopo più educazionale li metteremo in orari fine settimana e domeniche, per cui il tempo libero loro lo dedicheranno a chi ha bisogno costantemente. Insomma Arzignano non scherza, ma la linea dura, rassicura il Comune, non è per arginare un fenomeno preoccupante quanto piuttosto un modo alternativo e pratico per insegnare l'educazione civica. Arzignano non è più nemmeno che una città come tante altre. Quello che cambia secondo me è chi amministra. C'è un problema, noi lo nascondiamo, lo analizziamo e cerchiamo di risolverlo.